... ... avevo un coro questo, attaccato al focone dove si volava per terra ah, che si è attaccata al palato va, va vai, va, vai, che schifo e io ho paura per il focone vieni qui Diego ma questo spettacolo di Hotwist ti piace? com'è? cosa ne pensi di questo spettacolo? qual'è la cosa che ti piace di più di questo spettacolo? è quando fanno il giro della morte e quando fanno il giro della morte e poi è anche quando non si sente e poi è anche quando stanno nei motori in piedi quando fanno le sgommate non è quelle sgommate sono di tanto tempo fa queste qua, quelle che si vedono i segni? si quella lì c'è in mezzo lì sono anni e anni di sgommate eh, sono anni e anni di sgommate anni e anni a che ora inizia? due minuti a due minuti tra un po' inizia grosso uguale a Stan City Hotwist Hotwist ora inizio fra un minuto? si solamente? sì campione come si fa sentire inizio inizio e adesso poi siamo pronti vati a inizio a inizio a inizio a inizio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.